milanista dalla nascita darò tutto numero 57 c'è un motivo e meno male che non è preso il 71 e per chi conosce la smorfia napoletana sa a cosa e soprattutto a chi mi sto riferendo tribù rossonera tribù di gente vera buon pomeriggio buona serata sono già le 7 e ci stiamo preparando per andare a vedere gli azzurrini contro la norvegia e tifare per i nostri ragazzi per questo passaggio del turno degli europei under 21 ebbene così si è presentato il nuovo acquisto del milan appunto marco sportiello nuovo portiere del milan che sarà il secondo del nostro super magic mike che ai suoi 31 anni ha coronato un sogno che aveva fin da bambino dicendo sono milanista dalla nascita vengo da una famiglia di milanisti quindi per me è un sogno che sia vero un motivo d'orgoglio voglio ripagare la fiducia che mi ha dato questa società da bambino mi piaceva l'ascensore umano sebastiano rossi per chi se lo ricorda poi ha detto beh una certa maturità ha fatto tanta gavetta soprattutto dalle giovanili dell'atalanta ha fatto serie d serie c però non la serie b e ha fatto il salto in alto in serie a elogia make me nyan dicendo e sotto gli occhi di tutti che è un portiere fortissimo uno dei migliori al mondo per me sarà importante stare vicino a lui e imparare anche se ho 31 anni ne posso ancora giovare diciamo della sua presenza e sono contento di lavorare con lui e con lo staff del dei preparatori dei portieri ci sono anche belle parole con per stefano pioli col quale ha trascorso un anno a firenze dice abbiamo avuto un ottimo rapporto sono felice di tornare a lavorare con lui così come del poter finalmente diventare un giocatore che calpesterà lo stadio di san siro dice pensate che la mia ultima giornata proprio contro l'inter io già pensavo di ritornare qua da giocatore del milan è una storia incredibile e questo stadio da una forza un'energia enorme e sul perché del della scelta del numero 57 dice il 5 luglio è la data di nascita tanto di mia figlia che di mia moglie quindi 5 del 7 quindi di luglio e quindi il numero e non posso cambiarlo è come no posso immaginare una promessa ai tifosi del milan vi prometto che darò tutto me stesso ogni giorno beh questo ce l'auguriamo per quanto da parte mia spero di vedere il più possibile in campo mike mignon senza nulla togliere ovviamente a marco sportiello che possa giocare la coppa italia e quando ce ne sia bisogno ma ovviamente il nostro portiere titolare è e però attenzione onana meglio di mignon la sentenza in diretta i tifosi furiosi di che stiamo parlando l'ex portiere dell'inter sebastian frey che ricordo si prese sei pere dal milan inter 0 milan 6 inter 0 milan 6 un milan che era da sesto posto quell'anno con cesarone maldini che dirigeva la squadra ricordo ancora ero lì presente dopo il quarto gol già non avevo più voce ebbene eh gli era stata fatta questa domanda più che altro ai microfoni di tv play e dice ok al primo posto per me courtois ma al secondo metterei onana perché quest'anno ha giocato tutto il campionato ha vinto anche almeno un paio di trofei a differenza di mignon che ha giocato mezzo anno e non ha vinto nulla io non penso che un giocatore caro il mio sebastian frey che comunque sia anche un compagno di fede buddista quindi non voglio neanche attaccarti però non sono d'accordo su quello che dici per il semplice fatto che mignon è un portiere riconosciuto da chiunque ok vuoi mettere courtois come il più grande e lo ha dimostrato per varie questioni ma mignon è lì eh cioè come mi fai a dire che è meglio oh nana oi oh nana 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 vabbè opinioni si dice le opinioni sono come le palle e ognuno ha le sue così come quelle di super mario balottelli che eh intervistato da chi praticamente eh avrebbe il sogno di ritornare in serie A non dice esattamente cosa ma bisbiglia il nome del Cagliari un sogno di tornare in A nel Cagliari ma ecco a Mario ma tu non eri milanista non hai più il sogno di tornare a Milano perché sai che se no ti prendono appedate nel sedere no e praticamente questo sarebbe stato rivelato dai degli amici che erano presenti al recente matrimonio del fratello Enoch che hanno ripreso questa cosa e poi che ha riportato il la rivista scandalosa scandalistica di chi poi sarà vero non sarà vero intanto stasera arriva a Milano Ruben Loftut Cic e domani si sottoporrà alle famose visite mediche di rito prima dell'ufficialità ma ormai è cosa già fatta eh sono già eh praticamente trapelati anche ehm quasi sembra ufficialmente le cifre e dettagli di quest'operazione che vedono entrare nelle casse dei blues del Chelsea 21 milioni e mezzo bonus inclusi e il centrocampista inglese firmerà un contratto di quattro anni a quattro milioni di euro a stagione ma ci sono altre notizie oggi che a ruota libera vi do eh del mercato del Milan cominciando da un nome nuovo 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 ai più Uzzon Odoi interesse dei rossoneri secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian il Chelsea sarebbe pronto a vendere Calum Uzzon Odoi sull'esterno che il contratto scade nel 2024 sembra che a parte il Milan ci sia l'interesse anche di due squadre inglesi l'altra di Londra e il Fulham e il Nottingham Forest poi c'è Pulisic Milan lo statunitense si avvicina ai rossoneri in che modo? Secondo calciomercato.com il Chelsea è molto vicino all'acquisto eh del un ex sembra obiettivo rossonere Angelo per circa là è un Angelo non è un diavolo per circa 20 milioni di euro questa operazione potrebbe indicare secondo calciomercato la partenza proprio dell'americano con passaporto croato Pulisic al Milan un altro nome che è in voga ma che non mi fa scaldare il cuore e stiamo parlando del centrocampista del Valencia Yunus Musa sempre secondo calciomercato.com il Milan avrebbe contattato l'untourage del giocatore cominciato a intavolare una trattativa con quest'altro tutti americani vogliamo fare una squadra perché invece vicino al rossonero mettiamo la bandiera statunitense e le sensazioni secondo calciomercato che filtrano sembrano essere positive con la società rossonera pronta a reinvestire parte dei fondi che sono arrivati appunto dei soldi di Tonali e Newcastle il Valencia ha fissato il prezzo serviranno almeno 20 milioni va a me onestamente io l'ho visto qua in Spagna mi sembra un po' lento come gioco non è che lo vedo sto freno vedremo vedremo intanto c'è l'accordo sembra proprio per Luca Romero secondo Daniele Longo il giornalista Daniele Longo sul suo twitter c'è ormai un accordo totale tra Luca Romero e il Milan per un contratto di 5 anni si attendono visite mediche firma per chiudere l'affare poi c'è anche il nome Reinders mila le novità sul futuro sentiamo un po' cosa dice invece il rotocalco turbo mondialista dei transumani della Repubblica degli Elkan Agnelli non tramonta la pista che porta al centrocampista quale pista quella di Lapo di Lapo Elkan che porta al centrocampista la Z io pensavo Tartar control quello dei denti no è sempre vabbè lo scherzo la Z olandese Alkman Tijani Reinders il Milan nonostante l'arrivo di Loftucic alla ricerca di un altro colpo in testa però in mezzo al campo e questo sarebbe il colpo Reinders vabbè poi 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 sembra che siano state prese delle decisioni già su Orighi Orighi praticamente secondo il Corriere della Sera è in uscita sul Berga interessano c'è l'interesse di diversi club turchi tra cui il Fenerbahce i rossonieri chiedono 10 milioni per il suo cartellino sarebbe una grande una spluz perché è una spluz valenza di almeno 10 milioni visto che l'avevamo preso a zero poi 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 c'è anche un altro che in uscita e stiamo parlando di Ante Rebic Ante Rebic sembra ci sia un'offerta in arrivo il Milan è pronto a dire sì e l'offerta dovrebbe arrivare dal Besiktas turco anche qui la notizia arriva da un portale turco fanatic che appunto mi sa sono proprio dei fanatici questi qua una proposta contrattuale di 2 milioni e mezzo nette a stagione per il Croato su un piatto un'offerta da circa 4 milioni di euro per il suo cartellino non è escluso che vada in porto nei prossimi giorni anche quest'operazione che comunque noi sappiamo sarebbe solo un bene per lui e per il Milan visto che poi soprattutto nell'ultima stagione è servito praticamente come meno del 2 di picche un'idea dal Torino invece per quanto riguarda la difesa di Stefano Pioli il Milan si inserisce nella corsa per il centrale Schurz che ha fatto un'ottima stagione nel Toro e c'è anche il Napoli su di lui perché potrebbe puntare deciso vista l'imminente sembra partenza del sudcoreano Kim Min Jae-hee ma ma io riporto le notizie come vedete a differenza di altri vi dico anche da chi da come però vado sempre con i piedi di piombo qualcuno mi dice come mai per Sandro Tonali è aspettato l'ufficialità volevi l'ufficialità di questa cosa e per Love to Chick no la differenza sta nel fatto che per quanto c'erano tante voci che era insistente da ogni media avevo la speranza che Tonali come fece tanti tanti anni fa Franco Baresi avrebbe rispedito al mittente così come da sue parole due anni fa al Corriere della Sera offerte dall'estero lui non le avrebbe mai prese in considerazione avevo quel barlume di speranza che avesse fatto lo stesso come fece quasi 40 anni fa il nostro Kaiser Franz l'unica vera bandiera rosso nera visto che si è fatto anche due serie B con il Milan nonostante le grandi offerte ricevute però purtroppo tanto gli uomini di un tempo che i valori di un tempo sappiamo che ormai davanti al dio danaro sono cosa nulla detto questo andiamo a tifare i nostri ragazzi under 21 sperando che non ci sia il biscottino biscottone tra Svizzera e Francia perché se finisce 3 a 2 per la Svizzera ragazzi non mi dite che poi non ci sono magheggi nel calcio perché veramente è una possibilità su un milione che la Svizzera batti 3 a 2 la Francia noi ovviamente dobbiamo cercare di battere la Norvegia questa sera forza ragazzi forza Azzurrini e noi ci rivediamo domani come sempre qui a un prossimo video a meno che mi vieno sghiribizzo nel post partita di commentare gli Azzurrini dipende da come vanno tante dinamiche altrimenti ci rivediamo domani sempre qua mi raccomando il like non costa nulla l'iscrizione non costa nulla neanche se ti sono piaciuto io se ti piacciono i miei contenuti se vuoi far parte di una grande famiglia come quella della Tribù Rossonera fatta di gente vera un ringraziamento ovviamente speciale a tutti i vecchi iscritti e soprattutto gli abbonati al canale coloro che fanno sempre la loro donazione anche su Paypal conto corrente bancario grazie 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 di cuore ovviamente già sanno gli abbonati che hanno dei privilegi rispetto a tutti gli altri per sostenere il lavoro quotidiano della Tribù Rossonera perché se prendono soldi i politici italiani che si siedono una volta al mese alla Camera dei Deputati per il nulla non vedo perché uno youtuber non debba ricevere soldi per stare qui a dar la faccia tutti i giorni almeno due volte tre volte al giorno con dirette e tutto ok perché questo mi sembra che sia la cosa buona e giusta quando una persona è verace dalla faccia e dice le cose come stanno ti auguro una felice serata sempre Forza Milan ovunque e comunque e noi ci rivediamo qui domani sulla Tribù Rossonera Tribù di gente vera ciao